da qui capite chi non sa nulla chi spara fake news chi specula su questa storia degli arabi che ti spappardella sempre le stesse cose perché di novità non ce ne sono Oktrin non fa causa a nessuno anche perché l'Inter non c'entra nulla parliamo di suning punto com anche perché rileggendo qui calcio e finanza non bisogna fare confusione è evidente che si parla di suning punto com solo i piccioni non lo hanno capito di cui ormai gli zang non hanno più il controllo e detengono un pacchetto di minoranza in quanto a Oktrin ammesso e sia redditore di suning punto com l'Inter non c'entra una beata minchia chiedo scusa alle signore per la parola ma non solo alle signore quindi eh almeno riferimento al pic bond dato che ancora eh tra l'altro eh Oktrin non ha mosso un dito contro Steven zang a non serve una laurea per capirlo perché il prestito non è scaduto e B perché sono state pagate tutte le rate quindi si sta parlando di suning punto com bisogna farla finita bisogna farla finita l'ho detto un'ora fa mi è toccato di fare un altro video e ora mi devo vestire devo partire per lavoro bisogna far la finita si stanno facendo dei minestroni incredibili e qui queste cose ti vengono dette gratis senza chiedere donazioni aiuti o quant'altro qui gli unici aiuti si danno ai ragazzi disabili dell'ATISB sono questi gli unici aiuti che si danno non si danno gli aiuti chiedendo i soldi ai tifosi del link se lo vuoi sapere aiutiamo l'ATISB l'associazione toscana di spina bifida di cui mi occupo io e con cui do una mano se volete dare una mano a me non dovete dare soldi non dovete dare soldi a nessuno ma se io continuo a fare cattiva informazione non sono su YouTube non sono si presuntuoso da eh da aver aperto un canale YouTube per aver fatto informazione ma sugli arabi sulla nuova proprietà l'informazione che ha fatto questa a questo canale non l'ha fatta nessuno nei giornali e né tv e ci sono tutte le live soprattutto quelle in cui sono i ragazzi che lo testimoniano canale numero uno in assoluto predistacco canale che non ha mai speculato sul passaggio proprietà canale non fa cinquantamila live sempre sulle stesse cose noi facciamo live solo quando abbiamo novità sui documentazioni no che mi ha detto mi hanno ridetto perché sono cascati tutti i brilli americani chi diceva e zanghi rifinanziava chi diceva socio di minoranza cordata italiana bertarelli lasri e chi più ne ha più ne metta ci siamo capiti qualora poi ottiti dirò anche di più avesse fatto delle azioni il motivo poteva essere solamente uno che le rate praticamente erano state saltate ma le rate non sono state saltate e poi sarebbe stata una mossa a cascata dei redditori ma solo qualora le rate fossero state saltate ma non è stato saltato nulla ottrino ha mosso un dito contro steven zanghi si parla di su ring.com sveglia buongiorno poi anche a caccio e finanza buongiorno dagli esonerati vi siete accorti che in cina la situazione non è rosa come quello diceva che sono che hanno i sordi da buttare via eh mi siete svegliati a caccio e finanza a meno quello l'avete però scrivete s.unico.com l'inter non c'entra nulla 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 ciao Ciao!